Dieci giorni fa la morte di un 23enne di Pompiano causata da un mix letale di stupefacenti. Oggi il fermo, da parte dei carabinieri, dello spacciatore che aveva venduto le droghe al ragazzo. Per lui l'accusa è di aver provocato la morte del giovane come conseguenza di altro reato, ossia l'accessione di eroina e cocaina. Si tratta di Eros Paglierini, 39enne, noto le forze dell'ordine e senza fissa dimora. Giuseppe Ragazzi, questo il nome della vittima, era arrivato in pronto soccorso a Chiari la notte del 21 novembre. I medici avevano cercato di salvarlo, ma il mix di droghe che aveva assunto gli era stato letale. Gli esami sulla Salma, infatti, avevano chiarito che il decesso era stato provocato dall'assunzione contemporanea di dosi massicce di cocaina, eroina e sostanze sintetiche. Immediatamente i carabinieri della stazione di Orzinuovi, che fanno capo alla compagnia di Verola Nuova, hanno ricostruito i movimenti di ragazzi, scoprendo che la sera del malore fatale era stato a Brescia, nella zona di Via Sostegno, dove aveva acquistato diverse dosi di droghe da Paglierini. Con in mano i dati dello spacciatore è scattata la caccia all'uomo, prima senza esito nel Cremonese e poi, ieri sera, a Dinzago in provincia di Milano. Il fermo è stato convalidato e lo spacciatore si trovò ora in carcere a San Vittore, in attesa del trasferimento a Brescia.